Inizia così la nuova vita da sindaco di Bassano del Grappa per Nicola Finco. Sono da poco passate le 10, il magistrato e i presidenti dei seggi avevano appena ratificato l'esito del ballottaggio quando Nicola Finco con la sua famiglia entra in municipio per prendere possesso di quella che almeno per 5 anni sarà la sua nuova casa. Stamattina come ci sei svegliata da first lady, da moglie del primo cittadino? Come tutte le altre mattine, è sempre mio first man. Sorrisi e qualche occhiaia perché la prima notte da primo cittadino è stata di festa e non di riposo. È stata una notte un po' particolare perché sono scaricate tutte le tensioni di mesi e mesi di campagna elettorale quindi è normale così, però da oggi mi riprendo e si riparte alla grande. Spazio dunque alla proclamazione ufficiale. Benissimo da questo momento il nuovo sindaco Nicola Finco entra in carica. Grazie. Dopo la proclamazione segue la seconda fase del rituale e cioè la presa di possesso dell'ufficio che fino all'altro giorno è stato di Elena Pavan. Nicola Finco, emozioni per questo ingresso in quella che sarà un po' la sua casa, il suo ufficio dove lavorerà per i prossimi 5 anni, dove immagino incontrerà i cittadini, porte sempre aperte. Certamente, fa parte anche del mio stile di fare politica, quindi porte aperte, dialogo con tutti. Ovviamente ognuno ha le proprie problematiche, le proprie difficoltà, non abbiamo la bacchetta magica per risolvere improvvisamente tutti i problemi che una comunità può avere, però sicuramente da parte nostra ci sarà il massimo impegno. Dopo ho sempre parlato di metodo di lavoro, quindi insomma avremo modo di dialogare e confrontarci con tutti, però su tante tematiche amministrative poi bisogna avere anche il coraggio di decidere e di scegliere. E poi, a conclusione della mattinata, la prima conferenza stampa nella quale Finco ha ringraziato la sua squadra e i cittadini, ribadendo di essere il sindaco di tutti e di mettere al centro di tutto il dialogo, i quartieri, la gente di Bassano e del territorio con cui Bassano dialogherà. Infine, in attesa di quella foto che Finco metterà per prima cosa sulla scrivania, ecco il ritratto di famiglia, di una famiglia, l'altra è un po' più numerosa e conta oltre 40.000 bassanesi che da oggi saranno rappresentati dal sedicesimo sindaco della storia di Bassano, il sesto da quando il sindaco viene eletto dai cittadini, anche solo con un voto in più.